Grazie 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 La gara è molto bella Come ho detto partire dal centro della città è sempre molto bello molto interessante e poi durante il percorso ci sono state tante gente tante che aiutavano mentalmente è stato bellissimo organizzato bello e poi percorso anche abbastanza tecnico abbastanza duro e tutto ciò si chiama Sky Race mi aiutavo questo tempo perché vengo da San Peterburgo da Russia e allora tempo freddo con piove mi piace un sacco diciamo la gara è ha sido fortissima per me sono recuperato dopo un anno è stato ferme e credo che è nella seconda gara di questo anno mi sentito un poco estanco la prima parte in salita dopo ho recuperato la seconda parte di salita ho recuperato molto bene e ho stato in secondo in Chima e un po' di che ho fatto un po' di problema in la dicezza il tempo era brutto era il baleato il percorso però fino a un chilometro ho perduto il secondo posto e io io ero con il secondo però mentre non si avvicino non si avvicino avvicino